Benissimo, buongiorno a tutti. Allora, qui abbiamo perso un attimo di tempo per iniziare. Questa di oggi è un altro pezzo degli Stati Generali per il Verde Urbano, iniziati ieri e che dureranno fino a domani. Quindi una serie di iniziative che ruotano attorno al tema, vabbè, certo la promozione del Verde Urbano, la promozione, lo sviluppo, il confronto sugli aspetti normativi, progettuali e di prospettiva di questo tema. Tutto ruota attorno alla legge 10 del 2013, una legge che ha posto all'attenzione e alla concretezza il tema di non considerare più un accessorio l'aspetto del Verde Urbano, ma che l'approccio del paesaggio, del verde e delle tematiche relative all'armonizzazione degli ambiti urbani sia integrato e fatto proprio da tutte le componenti del mondo del progetto. Chi c'è oggi a questa iniziativa? Abbiamo tre presidenti di consigli nazionali professionali, Leopoldo Freri degli architetti, Armando Zambrano degli ingegneri, Andrea Sisti dei dottori agronomi e dottori forestali e un rappresentante dell'istituzione, cioè per il ministero dei beni e dell'attività culturale, direttore generale Belle Arti e Patrimonio e Paesaggio, Francesco Scoppola. Presidente del Collegio Nazionale Periti Agrari, Lorenzo Benanti. Chiedo scusa ma non era nella lista. Ha fatto benissimo. Seconda parte. Sono tutti gli attori del progetto a vario titolo e anche chi rappresenta la sponda istituzionale. Quindi ci sono tutti gli elementi per approfondire una discussione che non è solo quella del progetto, e anche quella che si sviluppa fra tutela e valorizzazione, perché poi dopo c'è anche l'aspetto legato alla tutela. Allora, partiamo dal presidente del Consiglio Nazionale degli architetti Leopoldo Freri. Allora, il dibattito sull'architettura, il paesaggio, il verde urbano, eccetera, è un pezzo, solamente un pezzo, importantissimo ovviamente, però è un pezzo del discorso della rigenerazione urbana, cioè il tema di come ripensare, più che ripensare, come ridisegnare, intervenire e modificare gli assetti urbani. Fino ad oggi no, ma insomma c'è stata tutta una stagione che era quella degli standard, di considerare una specie di aggiunta al progetto. Allora, oggi l'approccio che mette insieme il nuovo e anche il riuso fra edificato e verde è un approccio che non può che essere integrato. Sì, grazie Pierluigi. Intanto vi saluto, siamo molto contenti di avervi ospiti qui nella sede del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori. Ringrazio Massimiliano Attelli, presidente del Comitato Verde Urbano, per averci dato questa opportunità. E come anche negli scorsi anni, siamo molto felici di partecipare a queste iniziative perché il verde urbano è uno strumento di progetto, o almeno così noi lo consideriamo e dobbiamo imparare a considerarlo. Il tema della rigenerazione urbana sostenibile è, con tutta evidenza, il tema che informa il nuovo paradigma di uso del territorio e di rigenerazione delle città. Le riforme che sono in corso in questi mesi, grazie al governo e nelle aule parlamentari, non a caso riguardano la riduzione di consumo del suolo e rigenerazione urbana. La stessa, giusta appunto approvata l'altro ieri sera, legge sui lavori pubblici, contiene delle innovazioni anche in questo senso, stiamo lavorando, il governo, regioni, comuni, con il nostro aiuto sta lavorando sul regolamento edilizio unico, insomma, si stanno ridi... e presto, alla fine del processo di riforma istituzionale, in particolare del titolo quinto, si procederà a una nuova legge di governo del territorio. Stiamo ridisegnando la strategia di uso del territorio italiano con tutte le sue connessioni fondamentali riguardanti la questione climatica, a Parigi si va a discutere di questo, e la fragilità e la debolezza del nostro territorio, anche i danni che abbiamo fatto. Dico questo perché questa legge sul verde urbano e poi le attività che ne conseguono sono un pezzo molto importante di questa strategia e di questa visione. Quella legge non va e non deve essere considerata una mera dichiarazione di buone intenzioni, deve diventare uno strumento fondamentale di queste nuove politiche. In parte l'ha già anticipato Pierluigi Mutti, nel passato la questione del verde urbano è stata progressivamente considerata un accessorio, uno standard, un abbellimento delle città. Non è così evidentemente, è davvero uno strumento progettuale, uno strumento di risparmio energetico, serve a mitigare le isole di calore, serve a lavorare sul problema anche del dissesto idrogeologico nelle città. Perché il dissesto idrogeologico, come sappiamo bene, è un fenomeno che riguarda anche e molto i territori urbanizzati. Allora è in quest'ottica che dobbiamo porre il contributo del mondo professionale, il contributo dell'innovazione nel progetto e nelle pratiche progettuali per ottenere attraverso anche lo strumento del verde, dei risultati che vanno oltre i principi di gradevolezza e piacere di vivere in un ambiente naturalizzato. Sono veri e propri strumenti tecnici. Ieri nel gruppo di lavoro che sta lavorando sul regolamento edilizio unico nazionale che si sta occupando delle definizioni, per esempio, formalmente abbiamo posto il problema che nelle definizioni del regolamento edilizio il tema dei tetti verdi e il tema del rinverdimento delle facciate come strumento di risparmio energetico e medicazione dell'isole di calore va posto. Perché poi, siccome siamo in Italia e conosciamo la frammentazione normativa, regolamentare e burocratica di questo paese quando poi un bravo architetto ha voglia di usare il verde in facciata per ottenere dei risultati di risparmio energetico, di mitigazione dell'isole di calore e anche per fare dell'architettura, trova poi nel front office dell'amministrazione comunale un collega che gli dice ma questa cosa qui non è regolata e per cui io non so se è una scia o una dia se devo andare in sovrintendenza e allora dobbiamo dire che anche questo anche queste casisti come quello delle sere bioclimatiche di tante altre innovazioni che fanno parte di quella nuova cassetta degli attrezzi progettuale che ci deve mettere in grado di migliorare in modo deciso l'habitat delle nostre città e delle nostre case questi strumenti vanno inseriti e vanno regolati in modo non prescrittivo ma prestazionale lasciando poi tutta quella libertà che la progettazione che fa innovazione possa usare per vivere meglio e far vivere meglio i nostri concittadini naturalmente questo è un aspetto di un problema più ampio e più complesso che come si vede anche dai titoli della giornata di oggi passa e non a caso c'è qui il direttore Scopola dalla necessità di tutelare e valorizzare gli spazi verdi urbani nei centri storici passa dalla necessità di usare il verde urbano come strumento di riqualificazione delle periferie passa dal ragionamento di rinaturalizzazione progettata di spazi che attualmente sono abbandonati in aree dismesse o ex ferroviarie dove le nuove e future regolamentazioni creano grandi opportunità di progettazione del verde perché la compensazione e le perequazioni che si attueranno creano le condizioni per rigenerare parti edilizie ma anche di creare nuove condizioni di habitat usando il verde come strumento di riqualificazione naturalmente da qui passa anche tutta la questione della manutenzione della difficoltà della manutenzione delle risorse economiche stamattina non so chi di voi ha letto l'articolo di Sergio Rizzo su Selinunte dove un signore voleva dare 50.000 euro per aiutare il parco archeologico io ci sono stato da poco nel parco archeologico di Selinunte parlando di verde non hanno i soldi per tagliare l'erba e per cui si traversa in una specie di savana in questo luogo meraviglioso perché c'è un problema oggettivo di risorse dico questo perché la messa a sistema di tutti questi argomenti deve essere in grado di creare occasioni progettuali di creare occasioni di rigenerazione di pezzi di città occasioni di valorizzazione e riqualificazione dei centri storici con la loro condizione di verde storico che è fondamentale nella nostra cultura ma anche essere capace di mettere le risorse a sistema e nella messa a sistema delle risorse ci sta l'integrazione degli obiettivi e il verde è un pezzo importante di questi obiettivi di manutenzione gestione e rivalorizzazione delle nostre città per cui il contributo che gli architetti possono dare è innanzitutto un contributo progettuale e su questo è molto importante una grande attività di formazione ma è anche credo un contributo di visione e di collaborazione stretta con e non a caso qui siamo in quattro professioni ma con tutte le professioni che si occupano di questioni inerenti al verde per costruire nuovi modelli dall'abitare di vita nelle città in cui il verde sia protagonista grazie e allora passiamo all'altra all'altra professione in lista gli ingegneri mi permetta una scherzosa provocazione cioè uno tradizionalmente può pensare che un ingegnere tanto questo ve lo siete sentiti dire tante volte sia meno sensibile a questo approccio lo faccio apposto per suscitare un po' un minimo di discussione ovviamente non è un mio pensiero e quindi però evidentemente le cose non stanno così ma comunque l'attenzione cioè noi in questi anni abbiamo assistito a una serie di convergenze nuove consapevolezze negli anni scorsi proprio con l'inizio di riuso vedere insieme l'associazione dei costruttori e le gambiente fino a qualche anno prima sembrava una cosa così un po' fantasiosa allora la presa di coscienza di una serie di tematiche che sono arrivate non al capolinea è arrivata al capolinea l'attesa di una presa di coscienza e di iniziativa concreta fa sì che gli aspetti vengano più 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 aperti più spalancati e gli approcci no? la sto facendo un po' lunga ma per dire gli ingegneri si stanno aprendo anche di più su questo tema sicuramente dire che l'abbiamo sempre fatto non lo so il passato non lo conosco così bene però insomma voglio dire che qui tutto cambia tutto si evolve e ogni categoria ha la sua evoluzione fortunatamente dal mio punto di vista l'evoluzione degli ingegneri è in positivo anche su questo tema un tema che abbiamo sempre affrontato ma che negli ultimi anni è diventato preminente nella logica che abbiamo ormai tutti quanti assunto nel nostro DNA che buona progettazione vuol dire tutela dell'ambiente non è che c'è bisogno di pensare a una tutela specifica basta fare buoni progetti buoni progetti buoni interventi sul territorio sono per definizione degli interventi che tutelano e rispettano l'ambiente altrimenti non sono buoni progetti se questo è un principio da condividere credo che sia ormai ampiamente condiviso lo abbiamo assunto all'interno non solo del codice odontologico che abbiamo approvato di recente ma anche in quelli precedenti io credo che questo sia un merito sicuramente degli ingegneri ma di tutte le categorie professionali tecniche che ormai hanno tutte assunto come obiettivo quello della tutela dell'ambiente del paesaggio la rigenerazione urbana e così via come aspetto fondamentale della loro attività per cui partecipare gli stati generali del verde urbano dare un contributo all'interno di tutte quelle che sono le attività di tutela dell'ambiente per gli ingegneri è ormai un punto assolutamente indiscutibile del loro progetto di sussidiarietà nei confronti dello Stato un progetto che stiamo portando avanti anche con le altre professioni non a caso le quattro professioni tecniche che sono qui aderiscono tutte quante alla rete delle professioni tecniche non ci sono solo queste ma ci sono anche i geometri i periti industriali chimici geologi e tecnologi alimentari che sono quelli che non sono qui presenti ma tutti quanti insieme tra le discussioni che facciamo il problema di essere sussidiari allo Stato e di dare un contributo perché si facciano leggi chiare leggi semplici leggi applicabili leggi che tutelino l'ambiente è un obiettivo assolutamente fondamentale lo ricordava il presidente degli architetti prima Leopoldo che effettivamente noi come rete stiamo proponendoci nell'ambito appunto di collaborazione dello Stato su più ambiti da quello del regolamento edilizio lì è un punto importante perché dato la difficoltà spesse volte di fare in modo che le nostre proposte arrivino fino a livello legislativo soprattutto nel campo dell'edilizia nell'ultimo sblocco Italia la rete ha fatto una trentina di proposte di semplificazioni procedurali e amministrative assumendoci anche come professionisti responsabilità per quanto riguarda i pareri che dobbiamo dare quindi una semplificazione del sistema di queste 30 proposte soltanto 4 o 5 poi alla fine sono andate in porto non so perché le altre le abbiano scartate ma tra queste c'era proprio l'idea del regolamento edilizio unico che è un'occasione importante un'occasione da sfruttare proprio perché può essere il momento in cui mettendo a sistema tutti le migliaia di regolamenti edilizzi in questo paese possiamo fare in modo che gli obiettivi di tutela dell'ambiente ma anche di semplificazione anche di riordino di tutte quelle che sono le regole spesse diverse spesso confuse spesso addirittura inapplicabili che ci sono in tanti regolamenti edilizzi possono trovare un punto di incontro un punto di efficienza ed è il gruppo di lavoro presso il ministero della semplificazione un gruppo di lavoro che sta lavorando devo dire molto molto bene così come col ministero dell'ambiente il gruppo di lavoro che abbiamo istituito come rete dove c'è l'architetto Marata ma c'è anche il presidente Benanti c'è anche un collega del Consiglio Nazionale Ingegnere Ingegnere Solussi ed altri agronomi e così via sono tutti impegnati per fare in modo che questi criteri ambientali minimi ai fini della realizzazione di opere pubbliche possa essere il più rispondente appunto a quelle regole che come dicevo prima sono diventate parte integrante di quelle che sono le concezioni che ogni professionista tecnico deve avere devo dire che oggi la maturità delle professioni e dei professionisti tecni su questo campo è credo un punto così importante per cui a buon diritto possiamo chiedere ma anche nell'interesse dello Stato che ci si affidino sempre compiti sempre più importanti di tutela dell'ambiente non solo negli interventi di progettazione ma anche nella elaborazione di proposte normative su questa proposta di questo regolamento sui CAM con i criteri ambientali minimi credo che abbiamo dato un contributo importante su tanti aspetti soprattutto su quelli che potevano essere la qualificazione dei professionisti certo c'è qualche cosa ancora che riteniamo non particolarmente confacente a quelle che sono le nostre idee c'è ancora un riferimento a una qualificazione dei professionisti secondo la norma ISO 17.024 una norma abbastanza poco utilizzata che in linea di principio non è che ci vede contrarie perché la qualificazione e la certificazione delle competenze è un obiettivo che credo tutte le categorie abbiano in testa di arrivarci prima o poi anche per evitare quella confusione di regole che spesso anche nell'ambito della normativa sui lavori pubblici costringono molti di noi a diventare più soggetti economici o pensare di essere più soggetti economici che professionisti intellettuali allora la certificazione delle competenze può essere la risposta per definire dei criteri di individuazione di professionisti che possono in qualche modo essere già qualificati perché hanno seguito un percorso che gli ordini a loro volta hanno verificato e certificato quindi questo può essere un obiettivo importante da raggiungere per il resto questi criteri ambientali minimi nella stesura attuale ci vedono sicuramente molto d'accordo sono criteri che premiano sicuramente la buona progettazione la qualità della progettazione su questo nessun professionista tecnico credo che possa contestare per esempio il riferimento all'offerta economicamente più vantaggiosa che ormai un riferimento importante anche nell'ambito del disegno di legge delega sugli appatti di cui ha parlato il presidente Freri prima anche lì è importante vigilare ancora perché è uscito una norma che ci vede anche lì particolarmente presenti quasi tutte le nostre richieste sono state accolte all'interno di questo disegno di legge delega quello che dobbiamo verificare è assolutamente che i regolamenti attuativi che non sappiamo bene se saranno regolamenti se saranno linee guida se una software così come si dice ma c'è ancora un po' di incertezza su questo tengono conto di capacità di portare avanti norme che siano le più possibili adeguate alle necessità non dei professionisti ma quello delle pubbliche amministrazioni che spesso hanno grandi problemi nell'avviare quello che è un percorso di riforma vedevo oggi questa proposta per esempio delle stazioni uniche appaltanti che di per sé sembra la risoluzione del problema ma tutto questo ha portato di fatto a bloccare tantissimi appalti pubblici che si potevano e si dovevano realizzare perché le stazioni appaltanti uniche non sono ancora in grado di smaltire tutto il lavoro che dovrebbero fare allora bisogna comunque in ogni caso individuare delle norme transitorie che consentono di non bloccare il sistema ecco queste sono le proposte che stiamo portando avanti sul tema delle opere pubbliche sul tema dell'ambiente tutti i temi che sono a noi cari e qui non solo come singole categorie rappresentate ma anche con questa organizzazione della rete delle professioni tecniche stiamo lavorando devo dire con molto impegno grazie a tutti voi per l'attenzione grazie grazie presidente Zambrano grazie a tutti